Signori e signore, benvenuti in questo nuovo video, io sono Joe, The Rare Survivors, questo è... L'Odred, questo è... Chuck, e questo è il contest dei 1000 iscritti, la fine, la fine, il ritorno. E' finito, estraiamo che qui sa da mangiare, andiamo. Come vedete c'è il nostro random.org a sinistra, che si legge dom.org, da 1 a 61, come sono i nostri commentoni, e qui c'è la pagina Excel. Esatto, la pagina Excel. La lista. Very professional, attenzione. Quindi noi pigiamo lì e verrà estratto un numero tra 1 e 61, che troveremo poi nella lista. Come funziona? Chi verrà estratto dovrà contattarci o tramite messaggio sulla pagina Facebook o come commento qua sotto, dandoci come un commento, un... Tipo nell'ultimo video che facciamo, un video qualunque, tanto ci arriva la notizia, noi si vede. Meglio questo però. Eh sì, effettivamente. Dandoci il suo nome vero, così lo contattiamo su Facebook, ok? E caso mai, se abitato il vicino, veniamo, facciamo pure il servizio in casa. Ma anche noi. Lui fa il servizio in casa. Va bene, generiamo subito, che se no non lo carichiamo mai. 3, 2, 1... Il vincitore è il numero 26. Cioè è la pagina dopo. È la pagina dopo. Il vincitore del contest dei mille iscritti è... Eh, se va giù... Non va giù. Non va giù. FriendsGamer! Complimenti! Ha chiesto... Io mi ricordo di te FriendsGamer, tu hai scritto sotto un commento il gioco e volevi. Sei fortunato che abbiamo contato. Con Yosuke Wallyward! Vai! Solo per te! Bene! Quindi facci... Contattaci, se no estraiamo un'altra persona al posto tuo. Esatto, perché se no arriva un altro... Facciamo così, tiriamo sotto anche il secondo. No, no, vabbè! Vabbè, in ogni caso... No, vabbè, se non vince lui vince... Il 50. Nel caso dei signori, se non vince lui vince il 50, ovvero... Mr. Paper 146. E con metallo solido. Che per non si sa cosa. Vabbè. Quindi gli arriverà una foto di metallo solido per non si sa cosa a casa e... Vabbè. In ogni caso, congratulation! Quindi, contattaci, ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci! Congratulazioni! 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 Congratulazioni!